Visita Aquilana ieri per il Ministro per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti a Palazzo Silone è stata l'opportunità per la riunione del Comitato per l'Indirizzo e il Controllo per la Gestione del Masterplan presente anche il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Al termine dell'incontro il Ministro ha espresso soddisfazione per la prontezza con la quale stanno per essere canchierati i primi 20 grandi interventi del Patto per l'Abruzzo, pur precisando che lo strumento Masterplan è altra cosa rispetto ai provvedimenti straordinari varati dal Governo per far fronte alle emergenze dovute alle calamità del mese di gennaio. Per terremoto e maltempo, come sapete ieri, il Consiglio Ministri ha varato un provvedimento ad hoc che sostiene le popolazioni e gli interventi di ricostruzione sui territori e di ripresa economica. Il Patto per l'Abruzzo è molto importante perché definisce un quadro complessivo di interventi sia nelle zone che sono state colpite dagli eventi sismici e dall'emergenza neve sia più complessivo su tutto l'Abruzzo che aiuterà la ripresa economica e sociale di tutta la Regione. Ricordo che la Regione ha già fatto registrare tassi di crescita più alti della media nazionale. Dobbiamo continuare così, il Patto per l'Abruzzo è lo strumento per ottenere questo risultato ed è uno strumento di speranza per tutti, anche per le popolazioni più colpite dagli eventi di queste settimane. Abbiamo diversi interventi, più di 20 interventi, che verranno cantierati in questi prossimi mesi, diverse progettazioni molto avanzate con procedura di evidenza pubblica che partiranno molto presto. Io credo che gli investimenti previsti dal Patto si cominceranno a vedere già in questa primavera.